Sono due serate straordinarie perché straordinarie sono le artiste che ospiteremo quest'anno nei concerti Xanitalia. Due concerti va detto in Piazza del Popolo a Pesaro a ingresso gratuito. La prima, quella che sarà ospita è nostra l'8 luglio, è Carima, che è arrivata alla ribalta per essere giunta nella finalissima di Amici di Maria De Filippi. Arrivata terza ha vinto però all'unanimità il premio della critica, che è un premio importante perché appunto va proprio a vedere le qualità artistiche dei giovani in quel caso. Di lei si dice appunto che la sua versatilità vocale la rende una delle voci italiane più interessanti. Oltre alle sue composizioni ascolteremo cover di Whitney Houston ma anche composizioni fatte dal celebre autore di musiche da film Buck Bacharach e quindi diciamo che è un artista che dopo questo lancio in un talent oggi è affermata sotto tutti i punti di vista. Il secondo appuntamento, quello del 15 luglio, vedrà come protagonista Chiara Gagliazzo, è stata la vincitrice assoluta dell'edizione 2012 di X Factor in cui veniva guidata dal folle ma assolutamente competente Morgan e da quel momento è iniziata una bellissima carriera, anche lei guidata da un organo vocale molto prezioso che le è valso il titolo di Nuova Mina, ha fatto di Mina tante cover e ce le proporrà nella serata del 15 luglio, sempre Piazza del Popolo, sempre ingresso gratuito assieme ai suoi successi, uno su tutti, due respiri, canzone composta da Eros Ramazzotti per lei che ha avuto un grandissimo successo e anche Stardust, il duetto fatto insieme a Mica che ha avuto un successo planetario. L'orchestra sinfonica è sempre altamente professionale anche in questo versante della musica pop che un po' è stato richiesto da me per allargare il pubblico fruitore. Sono stati anni di soddisfazione, come dicevo, anche quest'anno due appuntamenti importanti, uno con musica e con capolavori di musica italiana e l'altro internazionale. Due appuntamenti che credo vedranno tanto pubblico partecipe. Siamo soddisfatti, io sono soddisfatto e continueremo questa vicinanza all'orchestra per i prossimi anni con l'entusiasmo che abbiamo avuto in quelli che sono già passati.